Qui collegati dal secondo tempo del big match della seconda giornata tra Bratislava e Chiava Tores sono ancora in vantaggio di Chiava Tores di un gol ora palla a Cerbone, Cerbone supera bene Ciro Montuori, palla al centro, chiude bene 3-3, incredibile, incredibile! Esce bene Gigi Esposito ma c'è stato un contrasto con Marco Collaro che cade a terra l'arbitro Cuccaro va a sincerarsi delle condizioni del centro avanti del Bratislava ora Gigi Esposito ancora la gioca in avanti per De Simone ma Pappone la mette in calcio d'angolo entra in campo Casalicchio fuori di Nuova Schioppa spot per noi Rituzione di partenza del Bratislava Cocozza, parte il tiro ottima parata di Gigi Esposito ora c'è una rimessa laterale ancora Cocozza per Chianese, ancora Cocozza Senior palla messa fuori da Ciro Montuori ora Giuseppe Chianese prova il tiro che termina fuori aveva provato lo slalom De Simone, la palla è terminata fuori, ancora Luca De Simone si gira bene su Chianese ma la palla viene messa di nuovo fuori ora Max Casalicchio la gioca a Lollo Pipitone, Lollo Pipitone cerca di superare un uomo qualche numero, attenzione il prova e il tiro che gol, che gol di Luca De Simone stiamo assistendo a uno spettacolo straordinario passano di nuovo in vantaggio i Chiavatore tutto grazie a Luca De Simone ora va alla battuta va alla battuta da Rio Cocozza la gioca indietro per Matteo Cerbone ora Marco Collaro prova il tiro c'è stata la parata ma chiude bene, attenzione stava per fare uno dei suoi goal Ciro Montori ora Andrea Cocozza qualche finta su Lollo Pipitone palla per Caponetti ora scende palla al piede Pappone Pappone un po' lunga per Chianese che la controlla però bene chiusura ottima di Ciro Montori ora attenzione palla al centro ma De Simone ovunque De Simone ovunque calcio ad angolo Cocozza ancora Cerbone Cerbone di nuovo per Cocozza che prova lo slalom chiude bene il Gigi Esposito ora Lollo Pipitone c'è un fallo su Lollo Pipitone la punizione sulla palla Esposito e De Simone l'arbitro piazza la barriera c'è il tiro Gigi Esposito in avanti parata facile per Caponetti che la gioca subito per Andrea Cocozza Andrea Cocozza scende bene palla al piede supera due uomini palla messa fuori ancora Cocozza la battuta per Matteo Cerbone che prova il sombrero su tre uomini attenzione la giocata di Cerbone che finisce fuori ma c'è stata la deviazione ora Tessina Cocozza la mette fuori Ciro Montuori ma la palla carambola ancora tra i piedi di Peppe Chianese palla messa fuori da Robert Amato che stiamo rivedendo in condizione è stato chiamato il fallo per il fallo di mano di Ciro Montuori punizione la palla Matteo Cerbone l'arbitro intanto piazza la barriera Gigi Esposito continua a piazzare la barriera parte il tiro Cerbone altissima la rimessa Gigi Esposito la gioca per Luca Desimone Luca Desimone che perde palla sul Cerbone ma recupera bene Ciro Montuori c'è il cambio tra le fila degli Avadores fuori Lollo Pipitone Lollo che ne pensi di questa partita? sempre molti esaudienti commenti di Lollo Pipitone c'era stato uno scontro vicino alla bandierina del calcio d'angolo tra Cerbone e Desimone ora di nuovo Desimone che prova a recuperare palla ma la riprende Cerbone pallate ai piedi di Cerbone che prova a superarlo fallo laterale ora c'è un po' di nervosismo tra le fiere del Bratislava che sono gli assoluti favoriti per la vittoria del torneo ora Cerbone la gioca per Peppe Chianese che prova il tiro chiusa bene da Luca Desimone ora Jack palla al piede perde palla attenzione Max Pappone prova a passare tra due uomini ma nulla di fatto ora scende pallate in drago cozza Palla in avanti chiude bene il centrale Schioppa in messa laterale con le mani Pappone che va verso il centro chiude bene Antonio Schioppa la palla finisce in fallo laterale Andrea Cocuzza la gioca per il fratello Dario ancora Andrea Cocuzza la gioca di nuovo per Dario Dario scende palla al piede Dario sembra intenzionato al tiro lo fa ma viene deviato da Marco Collaro ora Jack ora attenzione c'è stato il gol di Dario Cocuzza quanto siamo Carlo? altro bel gol l'ennesimo di questa partita e di questa giornata ha provato il tiro Roberto Amato direttamente dalla battuta ma la parata di Caponetti che non si scompone più di tanto ora sulla bandierina Luca Desimone va verso il centro Luca Desimone la chiusura di Marco Collaro attenzione Cerbone l'ottima chiusura di Ciro Montuori la palla è deviata da Andrea Cocuzza ancora Ciro Montuori con le mani Desimone la difende bene c'è stato il fallo il gioco pericoloso ma incredibile l'arbitro la chiama contro ora Peppe Chianese l'appoggia Cerbone di nuovo a Peppe Chianese un liscio vari lisci attenzione c'è il gol il gol di Dario Cocuzza un altro gol di Dario Cocuzza Roberto Amato alla battuta cercano di recuperare lo svantaggio Roberto Amato prova il tiro termina fuori Pappone la gioca per Andrea Cocuzza che effettua una finta ancora Andrea Cocuzza scende palla al piede contro di lui Roberto Amato la gioca a sinistra per Peppe Chianese ora Andrea Cocuzza ancora per Pappone Pappone supera bene due uomini con una Veronica Schioppa va a chiudere la palla che termina fuori attenzione c'è stata l'espulsione per Schioppa arbitraggio alquanto discutibile da parte dell'arbitro Schioppa l'arbitro Cuccar accompagna Schioppa fuori dal campo Pappone alla battuta verso il centro chiude bene Jack ancora Matteo che rimpalla su Roberto Amato ora Cocuzza la gioca per Peppe Chianese ancora per Dario Cocuzza e c'è un altro gol un altro gol di Dario Cocuzza il terzo il sesto incredibile riprendiamolo più da vicino la Cocuzza la cam rimessa dal fondo ci va Gigi Esposito Gigi Esposito la gioca per Lolito Pipitone Lolito Pipitone prova il doppio passo su Chianese palla per Jack che perde palla Cocuzza il sesto gol il sesto gol di Dario Cocuzza e Chiava Torres in ginocchio dopo una partita combattuta i Chiava Torres sembrano aver ceduto ora ci riprova Roberto Amato alla battuta gioca per Luca De Simone Luca De Simone prova a rialzare le sorti dei Chiava Torres ancora Luca De Simone De Simone scusate supera due uomini ma perde palla Pappone per Marco Collaro Marco Collaro l'ottima chiusura da parte di Ciro Monturi ora Lollo Pipitone Lollo Pipitone attenzione il tiro controllato da Caponetti che la gioca su Dario Cocuzza Dario Cocuzza ancora in avanti di Gigi Esposito contro i lavori spot per noi dario Grazie a tutti